salve a tutti signori io sono lorenzo e questo mio canale esperton e benvenuti bene oggi voglio farvi vedere come possiamo togliere il segno di sblocco che abbiamo sul nostro cellulare perché magari per puro caso non ce lo ricordiamo più oppure abbiamo dei problemi come vedete adesso qui ho il segno di sblocco che non mi ricordo più com'era e praticamente devo capire come fare a toglierlo ci sono vari metodi allora uno è quello di riavviarlo sperando che si tolgano ma ho visto che non funziona perché dopo quando andiamo a rimettere il nostro account quando andiamo a mettere la nostra schermata purtroppo non funziona oppure un altro metodo è quello delle chiamate di emergenza che adesso vi faccio vedere i vari codici il primo codice da fare per provare a sbloccarlo praticamente è un insieme di numeri che è asterisco cancelletto 601 cancelletto faccio chiama e non succede niente poi faccio asterisco cancelletto 00000 cancelletto poi bisogna fare asterisco cancelletto scusate asterisco cancelletto eccoci qua nonostante tutti i codici che abbiamo fatto purtroppo in questo caso a me almeno non funziona con android 14 quindi adesso vi faccio vedere vedete che nonostante io provo a sbloccare non funziona troppi tentativi di sblocco riprovate tra 27 secondi bene quindi che cosa vado a fare adesso vi faccio vedere un altro sistema che grazie ai mobi che ha ideato questo nuovo questo programma che si chiama droid kit possiamo andare a sbloccare il nostro segno e quindi a toglierlo adesso qui è il segno ma può essere anche il codice p può essere l'impronta digitale qualsiasi cosa comunque adesso vi faccio vedere che allora questo è il sito che volete se volete collegarvi e vi lascio il link in descrizione così potete utilizzarlo che cosa dobbiamo fare dobbiamo innanzitutto collegare il nostro cellulare alla nostra alla nostra al nostro computer praticamente quindi vado a collegare tramite usb c il mio mio computer eccolo lì l'ho collegato vedete e adesso vado a collegare il mio cellulare benissimo colleghiamo qui sotto sull'usb c e adesso lui mi dirà che sta caricando benissimo quindi tutto ok allora non mettiamo così così lo vedete anche voi bene quindi adesso vi faccio vedere droid kit che è il sistema appunto per fare questo sistema eccolo qua droid kit lui adesso si apre prima dovete scaricarlo logicamente dal vostro computer e così va quindi adesso questo come vedete alla vostra destra è il strumento cioè per fare questo sblocco dello schermo qui abbiamo sblocco dello schermo bypass frp recupera dati estra i dati ci sono vari programmi che in caso pian pianino andremo a fare tutti i video delle funzioni di questo nuovo programma quindi adesso cosa abbiamo fatto abbiamo collegato il nostro cellulare tramite usb c vado adesso mi metto in posizione eccoci qua così vediamo tutti assieme vado a fare sblocco schermo adesso lui mi dice bene poi rimuove completamente tutti i tipi di passcode quindi può essere l'impronta digitale può essere un cellulare samsung sony huawei xomi tutte le marche ci sono più di 20 mila prodotti collega dispositivo computer cavo usb e clicca sul pulsante in basso per continuare quindi facciamo inizia ok attenzione che qui c'è scritto questa funzione cancellerà i dati del sul tuo dispositivo questa funzione supporta solo la connessione di un dispositivo contemporaneamente ma la cosa più importante è questa funzione cancellerà i dati del tuo dispositivo quindi sappiate che può essere che perdete tutti i dati se dopo avete fatto un backup sul vostro account benissimo li recuperate si è collegato al computer dispositivo connesso e diamo ok lui adesso cosa fa file di configurazione del dispositivo sta cercando che il dispositivo è collegato quindi se è un samsung se è un o altri prodotti insomma e poi ci verranno fuori le istruzioni solo per fare questo qui adesso un attimino che lui si carica spero di non scollegare il dispositivo e toccare il cavo usb quindi lasciate pure che lavori perché lui sta lavorando per capire che telefono è perché adesso vedrete che ci sono varie funzioni eccoci qua siamo arrivati al 100% adesso lui mi dice il file di configurazione preparato per il dispositivo i dati del dispositivo verranno cancellati ve lo ricorda di nuovo che verranno cancellati se il dispositivo ha effettuato l'accesso con un account google potete rimettere l'account google e al 99% recuperate tutto rimuovere ora ok seleziona la marca del tuo dispositivo per rimuovere il blocco samsung impossibile spegnere può essere spento può essere spento qui adesso lui mi dice tenere premuto il tasto laterale per spegnere il cellulare quindi adesso io vado a spegnerlo ok adesso vediamo se me lo fa spegnere spegni e lui mi chiede il sblocco quindi devo forzare lo spegnimento eccoci qua abbiamo spento il nostro cellulare e adesso devo seguire le istruzioni che ci sono scritte qui quindi dispositivo con tasto home no non è il nostro caso perché è un cellulare nuovo non ha il tasto home con il tasto bixby nemmeno abbiamo un dispositivo senza tasto home quindi qua l'abbiamo già spento adesso tieni premuto i tasti volume su e accensione per alcuni secondi quindi premiamo il tasto accensione e volume su per alcuni secondi bene fino a quando qui c'è scritto rilascia tutti i pulsanti se viene visualizzato il logo samsu e attendi la modalità di ripristino quindi adesso noi attendiamo la nostra modalità di ripristino ed eccola qua vedete adesso lui cosa mi dice andare giù su wipe data factory reset quindi con il tastino qui del volume del bilanciere su e giù andiamo giù ok vedete qua fino a trovare wipe data factory reset per dargli l'ok si preme il tasto di accensione ok vado giù su factory reset ok e gli diamo l'ok benissimo adesso una volta fatto questo le istruzioni cosa dicono il menu conferma con il pulsante di accensione quando verrà visualizzata nuovamente la schermata recovery mode seleziona reboot system now quindi adesso qui vedete che c'è scritto reboot system now gli do ok col mio tastino dopo il riservato il dispositivo si è richiesto inserire la password della schermata di blocco durante l'avvio torna alla pagina home ok eccoci qua quindi adesso noi cosa abbiamo fatto abbiamo fatto tutto quanto il bypass e adesso lui è a posto e possiamo utilizzarlo qui si danno le istruzioni per riavviarlo che adesso non sto qui a farvi vedere tutto quanto ma comunque dovete mettere start e mettere il vostro la vostra password del wifi e poi si avvia e da lì poi andate a mettere il vostro diciamo il vostro account e così in caso recuperate tutti i dati bene qui facciamo avanti passo 2 segui i passaggi seguenti per completare l'operazione di sblocco riavvia manualmente il telefono per completare l'operazione di sblocco una volta finito come vedete qui non mi chiede nessun sblocco e siamo a posto quindi problema risolto eccoci qua quindi adesso volevo farvi vedere un attimo come è fatto il sito di mobile e praticamente qua ci sono tutti i sblocchi da fare trasferimento dei dati multimedia che vedete utilità e ci sono varie funzioni e qui andiamo a vedere un attimo i prezzi dei vari servizi che possiamo avere come vedete abbiamo un abbonamento per tre mesi un abbonamento per un anno che è quello più venduto anche perché è quello più scontato cinque dispositivi un pc piano a vita e piano multi utente beh piano a vita 45 euro 99 se facciamo un conto che sono 16 euro in più andate tranquilli e ce l'avete per tutta la vita molto interessante questo dispositivo anche perché mi permette di fare tante cose che purtroppo ogni tanto succede che ci dimentichiamo oppure anche salvare whatsapp possiamo salvare i dati possiamo siamo sempre tranquilli con questo programma qua i pagamenti sono sicuri perché tramite paypal visa american experts mastercard tutti i sistemi che ci interessano soprattutto paypal che secondo me resta uno tra i migliori bene e quindi signori che dire se il video vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi al canale che è gratuito non costa nulla e attivate il tasto delle notifiche bene signori grazie a tutti e arrivederci